Bene, allora, in questo video andiamo a vedere come utilizzare sempre gli strumenti base che conosciamo di Illustrator per andare a creare delle faccette come queste, quindi dei characters. Questi li ho presi da internet, hanno screenshot in JPEG, quindi potrai vedere che ce ne sono tante e potrai vedere che anche su Shutterstock ce ne sono tante, sono in vendita, e quindi anche tu potresti imparare a farle, ok? E poi volendo provare a venderle su Shutterstock. Naturalmente ci vuole la creatività di saper disegnarle. Noi ora utilizzeremo alcuni di questi già fatti, sia per campionare i colori, sia per prendere la forma della faccia, ok? Perché è una questione un po' di creatività a farle, magari uno può prendere una foto reale e poi fargli il charactering in questo modo qui. Però noi in realtà in questo esercizio andremo a vedere come usare le figure base per dare, per poter creare delle geometrie come queste, quindi delle facce come queste con semplici pochi strumenti. Quindi andiamo in Illustrator, io qua ho fatto già lo screenshot di una, ci avevo messo il lucchetto, come si vede questa qua, è un'immagine JPEG, non è un'immagine vettoriale. E quindi semplicemente metto il lucchetto, faccio un livello nuovo, tiro fuori gli strumenti base, che sono questi qua, come sappiamo, e analizzo velocemente questa immagine. Come posso vedere, smontando questa immagine, posso vedere che qua c'è, ad esempio, un'ellisse. Posizioniamo sul livello. E quindi potrei sfruttare questo, questa geometria primitiva, per andare a creare quello che è il volto. Oppure, con la versione che abbiamo della CC, qua, che abbiamo questi, possiamo fare gli angoli arrotondati, ok? Se vogliamo fare gli angoli arrotondati solo di quelli sotto, selezioniamo i due vertici qui sotto e li arrotondiamo, ok? In questo modo questa parte va direttamente su, come si vede. A differenza di, adesso, campiono un attimo il colore, in modo che capisci, a differenza che utilizzare l'ellisse. Quindi questo te lo faccio vedere per quale motivo, perché così capisci, quando fai l'analisi magari, che vuoi fare un disegno, dire quale mi conviene fare con questo, diciamo che questa linea del viso, ok? Che viene poi in su qua, tipo, arriva qui e poi squadra, esattamente come qua, con il cerchio, in questo modo, con l'ellisse, non si riesce a fare. Bisognerebbe andare ad aggiungere, ad esempio, dei punti, ok? E quindi è un passaggio in più. Ma ciò non toglie che andiamo a fare esattamente la stessa identica cosa. Quindi questo me lo posiziono qui, momentaneamente, Command-Shift-X per vederlo, lo riposiziono un po' più su, poi se magari non è perfetto si può aggiustare in un secondo momento. Quindi ora lo sposto e lo metto qua per farti vedere velocemente come possiamo andare a ricreare ancora una volta con il solo quadrato, ok? Me lo posiziono qui dietro, poi dopo faremo l'allineamento, campiono il colore, ripeto, questo qua lo facciamo per vedere quanto sia semplice fare una cosa con solo due strumenti. Per ora abbiamo usato solo uno strumento che è il rettangolo, col rettangolo naturalmente, col cc, abbiamo la possibilità di fare questa figura qui, ok? Quindi è molto più semplice. A questo punto dobbiamo andare a fare la parte sopra, per fare la parte sopra, volendo, potremmo fare Command-C, Command-F, tasto destro, rifletti, oppure ci prendiamo un angolo, lo ruotiamo, e se vedi, se ne andiamo a posizionare qui sopra, non è esattamente uguale perché qui ci sono i capelli che vengono giù. Quindi semplicemente Shift-X, lo allargo, ok? E lo tiro giù fino qui, in modo da avere tutto lo spazio dei capelli. Quindi Shift-X, lo sposto, me lo posiziono qui, Y per campionarlo, e a questo punto dobbiamo andare a troncare questa parte qui. Quindi per fare questa parte qui possiamo farlo, o facciamo una maschera, possiamo farlo in varie maniere. Quindi vediamo un po' come iniziare, potremmo partire facendo semplicemente questa parte qui, facciamo soltanto un angolo, e per farlo potremmo utilizzare ancora una volta solo uno strumento che è M. Ok, quindi prendo M, faccio così, mi posiziono tipo, va bene così, prendo solo questo vertice, faccio così, in modo da creare questa curva, ok? Che, una volta che la posizionerò qui sopra, adesso faccio così in modo che si vede, dopo verrà tagliato, ad esempio, in questo modo qui. Potremmo fare tasto destro, crea maschera di ritaglio, per prendere soltanto quel pezzo lì, adesso andiamo a creare anche l'altro, Command-C, Command-F, tasto destro, rifletti, riflessione, queste sono cose che già sappiamo naturalmente, ok? E la posiziono qui, naturalmente questo dovevo farlo arrivare più in alto, se vedi? Quindi semplicemente prendo questo punto qui, prendo questo punto qui, li sposto su, faccio così, in questo modo me lo sono già posizionato davanti, questo qua lo cancello, Command-C, Command-F, tasto destro, trasforma, riflessione, verticale 90, gira di qua e gira di là, e l'abbiamo già messo qui davanti. Naturalmente dobbiamo spostare tutto dietro perché questo qua ora è davanti al viso, e lo postiamo qui dietro. Dopo ci occuperemo di andare a tirar via la parte bianca, per tirare via la parte bianca, ad esempio, riporto tutto avanti, e a questo punto cosa faccio? Faccio una copia di questo, Command-C, Command-F, lo copio soprattutto, ok? Gli cambio il colore in modo che si capisca quello che vado a fare. Ora semplicemente prendo questo punto, questo punto, e li porto tipo a questa altezza, no? E ora cosa faccio? Prendo questo qui e quello sotto, e faccio una maschera di ritaglio, semplicemente così diventa bianco, e si vede soltanto la parte sopra. Quindi ora seleziono questi qua, Command-X, Command-F per spostarli sopra, prendo tutto quanto, e sposto tutto quanto indietro. In questo modo ho già creato questo buco qua, ok? Qui è bianco. Ora questo qua è troppo alto, semplicemente prendo i due punti, e li porto magari a questa altezza. Andiamo a fare gli occhi. Ancora una volta uso sempre lo stesso strumento, quindi zoom, mi posiziono qui, faccio semplicemente così, prendo questo punto, prendo questo punto, gli cambio il colore, così diventa nero, e ho già fatto anche questa parte qui. Come si vede, con solo uno strumento, stiamo facendo tutto quanto, quindi Command-C, Command-F, e poi me lo sposto di qua. Poi se non è uguale identico, naturalmente, è una questione di mettersi lì, e farlo un po' più carino. Anche per la bocca possiamo fare la stessa cosa, ad esempio, prendo sempre questo strumento, strumento rettangolo, prendo questo punto, faccio tipo così, prendo quest'altro punto, faccio tipo così, Shift-X per vedere se più o meno, ho centrato, prendo questo punto magari, per spostarlo un po' più in qua, Command-Y per vedersi un po' meglio, perché ora sono due punti, naturalmente, quindi mi prendo questi due, mi sposto un po' più in qua, se voglio, oppure se non voglio, non lo faccio, dipende quanto voglio essere preciso, naturalmente, ok? Quindi, i campiono questo colore qui, naturalmente, dopo si può andare a migliorare l'interno, e la posiziono qua, ok? E già sta prendendo, piano piano, un po' la forma, quindi a questo punto, ancora una volta, prendo il mio rettangolo, faccio così, prendo questo punto, faccio così, e vado a vedere dove sono i denti, quindi più o meno così, vediamo se ci assomiglia, naturalmente, poi mettendo le ombre e quant'altro, diventa tutto molto più realistico, ok? Facciamo anche la parte sotto, quindi, M, ancora una volta, prendiamo questo punto qui, prendiamo quest'altro punto qui, vediamo un po', di, fa un po' più bassino, ok? E niente, e te lo sposti di qua, ora, a questo punto, questo qua, è leggermente diverso, quindi magari, possiamo fare, anche in questo caso, il discorso della maschera, ok? Andiamo a vedere, come mai non è venuto come, quell'altro, perché, questo qua, sta proprio sopra, a questa parte qui, ok? Quindi, prendo questo qui, me lo posiziono tipo qui, per ora, questo qua, faccio una copia, clicco questo, lo incollo sopra, tasto destro, crea maschera di ritaglia, vediamo che cosa fa, ok, si è posizionato, lì, facendo la maschera di ritaglia, ora, a questo punto, questo qua, si può anche muovere, che è anche più comodo, si potrebbe fare la stessa identica cosa, per questo, per migliorarlo ancora di più, dipende, ripeto, come si vuol fare, poi naturalmente, muovendo un po' anche, i vari pezzetti, cambia un po' di più la forma, del, del disegno, ancora una volta, prendo sempre solo uno strumento, che è questo, i, command c, command f, faccio una copia, ok, e poi me lo esposiziono di qua, più o meno, ora, ancora una volta, con questo, prendo lo strumento M, che è il nostro rettangolo, ancora una volta, premo questo punto, faccio così, premo quest'altro punto, e faccio così, lo sposto di qui, campione il colore, in modo da metterlo lì, faccio command c, command f, per farne una copia, in modo da andare a fare questo pezzettino dentro, ok, e poi, lo sposto qui, i, per campionarla, in modo che vedo quello che faccio, e così diciamo che ho fatto, più o meno, l'orecchio, naturalmente questo qua, è da sistemare, tipo, facciamo una cosa del genere, e poi tanto, adesso, lo metteremo dietro, e quindi, e quindi, facciamo così, ok, adesso, l'orecchio è qui, ok, ma noi dobbiamo metterlo dietro la faccia, quindi, possiamo utilizzare, volendo, andare indietro con, i livalli, fino a quando non andiamo, sotto a questo, utilizzando gli shortcut, oppure, sappiamo che questo qua, è il viso, ci prendiamo l'orecchio, lo posizioniamo qui di dietro, così, già l'abbiamo messo, ok, command C, command F, per fare una copia, trasforma, rifletti, per posizionarlo, dall'altra parte, e facciamo la stessa identica cosa, ora, sembra che mi sono dimenticato, di fargli, gli orecchini, era meglio se li facevo subito, però, è andata così, quindi, ancora una volta, posso usare anche sempre, questo strumento, in realtà, perché, se faccio così, questo qua diventa tondo, ok, e quindi, lo campiono, semplicemente, velocemente, e poi, me lo posiziono di qua, così, intanto, metto tutti i pezzi, poi dopo, in un secondo momento, si può, naturalmente, migliorare tutto, come al solito, come dico sempre, quindi, command C, command F, per fare una copia, velocemente, e lo posiziono qui, posiziono qui, vedo un po', che cosa ci manca, ci manca da fare, semplicemente, questa parte qui, e questi pezzetti qua, quindi, noi, dobbiamo portare, i capelli davanti, perché questa parte qua, in realtà, l'abbiamo già fatto, oppure, potremmo usare il pennino, per, e andarci sopra, proviamo, a utilizzare, andare, fare doppio clic, qui dentro, perché qui dentro, abbiamo la nostra bella maschera, quindi, se torno indietro, ci clicco sopra, ok, questa qua, è la nostra maschera, ora, seleziono, lo strumento di selezione diretta, per andare a prendere i due punti, in modo che, sposto sulla maschera, e come vedi qui dietro, adesso ci viene, il bianco, quindi potrei tenerlo così, ok, e a questo punto, se prendo questa parte qui, Command X, Command F, la coppia davanti, ho, diciamo, evitato di aggiungere, un pezzo, perché, prima avevo detto, che avrei potuto aggiungere, un pezzo sopra, ora, a questo punto, che sono, che ho il mio pezzo, l'unica cosa che devo fare, è andare a utilizzare, un altro strumento, che è semplicemente, il pennino, per andare a fare, questa parte, qui, oppure, potrei utilizzare, delle maschere, e poi, con il Pathfinder, ovvero, il, elaborazione tracciati, e andare a creare, questa parte qui, secondo me, in questo caso, conviene utilizzare, ad esempio, il pennino, quindi, semplicemente, andiamo, ci avviciniamo un po', clicchiamo sopra, il nostro oggetto, che è questo qui, aspettiamo, se l'ho preso, ah no, questo qua, era una maschera, quindi, dobbiamo, per forza di cosa, alzare tutto quanto, ovviamente, quindi, la maschera, a questo punto, poi, non servirà, in realtà, neanche più, e infatti, non avevo, non avevo considerato questa parte qui, però, come vedi, adesso, la risolviamo, semplicemente, aggiungiamo un punto qua, ok, in modo che, questo qua, rimane agganciato, aggiungiamo un altro punto qua, in modo da fare, direttamente, lo spazio, su cui lavorare, ora, aggiungo un altro punto qui, ok, che diciamo che, io uso questo punto qui, che sarebbe questo qui, questo punto qui, lo sposto su, ok, in modo da aver creato questa linea qui, diciamo, aggiungo un altro punto, semplicemente, qui sotto, faccio tipo, in questa maniera qui, poi, aggiungo un altro punto, o lo posso aggiungere dopo, però, se lo aggiungo dopo, come vedi, la figura, si rompe, quindi, secondo me conviene, mantenere questa linea, in questo modo qui, e aggiungere i punti, internamente, diciamo, quindi, questo qua, verrebbe, tipo, una roba del genere, ok, non è magari uguale, identico, lo so, benissimo, però, è per farti, capire come fare, quindi, torno indietro, e come vedi, più o meno, ci assomiglia, potrei prendere questo, appoggiarlo qui sopra, per farlo esattamente, uguale, identico, volendo, adesso, non so, per quale motivo, perché c'è sempre la solita maschera, che a breve andremo a tirare via, tipo, una cosa del genere, così ci assomiglia di più, perché facendolo così, ok, e come vedi, questo, naturalmente, ripeto, è un'esercitazione, per farti vedere come abbiamo usato soltanto, due strumenti, in questo caso, il pennino, e lo strumento è rettangolo, naturalmente, con la funzionalità, degli angoli interni, che si possono arrotondare, altrimenti, non, non si sarebbe potuto fare, a questo punto, che prima, per errore, mi sa, avevo aggiunto quella maschera di ritaglio, che sarebbe da, andare a togliere, quindi, acciaccargo in mezzo, suppongo sia questa, no, questa è la maschera di ritaglio della bocca, probabilmente, l'ho, già tagliato, pure qui dentro, sicuramente, questa qui, ok, questa maschera di ritaglio, ora, non serve più, in realtà, perché tanto lo spazio bianco, già, va bene così, e quindi, questo è quanto, quindi, questo è, naturalmente, qui sotto, si possono andare a aggiungere tutti questi dettagli, ok, per raggiungere, ad esempio, questo dettaglio qui sotto, potresti fare, ad esempio, semplicemente, una copia di questo pezzo qui, command C, command F, prendo questo, lo sposto un po' più sotto, shift, sposto tutto dietro, in poche parole, lo metto, lo metto, ad esempio, davanti al collo, ok, quindi, il collo, si trova qui, prendo il collo, command C, command F, ok, il collo l'ho messo qui, quindi, riprendo questo, command X, command F, per spostarlo davanti, in modo che, si veda, tasto destro, spero di aver preso quello giusto, infatti, non lo fa, ho preso quello sbagliato, scusami, lo tiro via, in modo che si riveda, ok, quindi, rincollo sopra il viso, che avevo spostato sotto, gli cambio il colore, momentaneamente, in modo che si veda, prendo il collo, lo incollo sopra, prendo questi due, e faccio, crea maschera di ritaglio, in modo da avere, questa parte qui, ora, semplicemente, shift command, no, ve lo sposto dietro, forse è un po' troppo, lo metto qui, e poi, semplicemente, andando a, campionare il colore giusto, non so, per quale motivo diventa di questo colore, ecco qua, abbiamo ricreato, naturalmente qua è tutto pixelato, e qua ci manca, anche questa ombra qui, e tutti questi dettagli qua, però, abbiamo fatto velocemente, un piccolo viso,